Si sforza il sindaco di Scafati, dottore Pasquale Aliberti, di spiegare o giustificare la rimozione o la promozione del dottore Porfidio Monda, responsabile del piano di zona S1. Il dottore Monda non si sa se per suo volere o per volere della politica è stato trasferito a torna annunziata a ricoprire un ruolo verticistico nella sanità di quella città. La verità potrebbe essere che il dottore Monda non è più gradito alla politica salernitana per cui era necessario promuoverlo per rimuoverlo, cosa che è avvenuto in una riunione che si è tenuta a Salerno. Il sindaco di Scafati cerca di dare spiegazioni che sembrano prime di fondamento e che chiaramente non sembrano realistiche per chi conosce le cose della politica. Forse il responsabile del piano di zona avrà dato fastidio a qualcuno o non avrà ottemperato a quelli che erano i desiderati della politica provinciale o forse perché ha usato troppo la sua testa e la sua intelligenza. Intanto la politica cerca la persona che dovrà sostituire il dottore Monda anche se c'è qualcuno che sussurra che il nuovo già c'è e che forse proverrà da Agropoli. Certamente con la fuoriuscita del responsabile del piano di zona si perde una grande intelligenza ed un ottimo professionista che ha reso i servizi sociali efficienti e pronte ad intervenire in tutti i comuni in maniera professionale per garantire quanto più possibile coloro che avevano e hanno necessità e bisogni. Forse viene da Agropoli, una persona dovrà sostituire Porfidio Monda poi lei ha detto che potrebbe lanciare un anno per il 2023 forse. Le dico anche di più, nel piano di zona non c'è soltanto il comune di Scafati ci sono tanti sindaci, non soltanto del Pdl ma anche dell'Udc. Non ci prenda per degli stupidi, la prego. Allora, Porfidio Monda non rientra più nei progetti dell'amministrazione provinciale e dica la verità una volta tanto, non faccia sempre ai politici. Caro Tenuto le ha detto che lei sta sbagliando, che ha dimenticato il sentimento, sta diventando cinico, sia più sentimentale con la politica. Quando Caro Tenuto ha parlato io mi sono emozionato tra le altre cose perché con Caro Tenuto c'è un rapporto affettivo prima che politico. Parliamo anche con Porfidio Monda, lei ha avuto un rapporto affettivo, adesso perché lo ha scaricato così? È un rapporto affettivo che rimane assolutamente, tant'è vero che Porfidio Monda è una delle persone che ha collaborato anche in Regione Campania con mia moglie su tante questioni, però mi lasci insomma anche aggiungere questo. Porfidio, mi permetto di chiamarlo Porfidio per il rapporto amicale che penso di nutrire nei suoi confronti, ha deciso qualche tempo fa anche di andare a ricoprire il ruolo di dirigente presso il comune di Torre Annunziata. Questo perché, le dico insomma anche questa cosa, noi non avevamo un ruolo di dirigenza per quella carica. Sì, perché gli avete fatto l'ostracismo, dica la verità, gli avete fatto l'ostracismo. Ma se parla insomma della mia persona non ho mai fatto l'ostracismo, insomma Porfidio. Io non parlo, lei ha capito bene, lei ha capito bene. E di questa cosa trova conferma, tra le altre cose, nella lettera che Porfidio ha lasciato, nella quale insomma poi alla fine ringraziava il sindaco di Scafati, la collaborazione per il modo... Il problema è insomma è un altro, la questione è veramente di natura tecnica. Con Porfidio per quanto mi riguarda, il sindaco di Scafati, insomma nei confronti di Porfidio, ha un rapporto di stima, anzi le dico anche di più. Porfidio fuori dal piano di zona o dal nostro piano di zona non significa insomma lontano dal comune di Scafati. Io di Porfidio spero di continuarmi a servire sotto l'aspetto tecnico. Auguro a Porfidio le migliori fortune da dirigente. E' la parte politica che ha fatto l'ostracismo a Porfidio mondo. Quindi non mi prenda in giro, la prego. E allora in questa parte politica ci metta anche il sindaco di Roccapimonte, ci metta anche il sindaco di San Valentino che sono uomini dell'Udc.